Giovane Montagna è l'associazione che ha compiuto 100 anni e che nei mesi scorsi ha dato alle stampe questo volume che si intitola Camminare insieme nella luce, 100 anni della nostra storia. Un volume ponderoso, importante, illustrato da numerose fotografie molto belle, un volume scritto a più mani che rappresenta quasi un album di famiglia di questa realtà che oggi andremo a conoscere con i nostri ospiti. Ospiti al massimo livello, il presidente Tita Piasentini che è con noi di Giovane Montagna, Roberto De Martin qui presidente che fa gli onori di casa come presidente di Trento Film Festival ma anche autorevole guida della letteratura di Montagna e della presenza anche dell'associazionismo cattolico in Montagna. E infine uno dei curatori di questo volume, Germano Basaldella. Io chiederei subito al presidente di Giovane Montagna, una realtà diffusa in quasi tutte le ragioni d'Italia, di presentarci questo volume, da dove nasce, quali sono le sue finalità. Nasce a Torino nel 14-1914 da un gruppo di giovani del coraggio cattolico. L'architrave di questa associazione è poggiata su due colonne, l'identità cristiana, cioè dalla propria fede e dalla bellezza della montagna. Dopo cento anni questa identità, data dai nostri fondatori, rimane sul crinale tra secolarismo e movimenti di natura storica. Vengo al volume Camminare insieme nella luce. È un titolo significativo per la nostra identità. Tutti noi oggi, ogni giorno, sentiamo il bisogno e il desiderio di luce nella nostra vita. Infatti, quando troviamo qualcosa di sbagliato nella nostra vita, proviamo un forse disagio, perché sentiamo il bisogno che tutto, presto o tardi, venga alla luce. Se solo ciò che viene alla luce libera il cuore dell'uomo, lo rende capaci il desiderio dell'infinito, ciò per cui è fatto. La luce fa spazio alle forme della montagna, ridifinisce le cose. È l'esperienza che ogni giorno il nostro pianeta fa con il benepico apporto del sole. Camminare nella luce vuol significare tutto questo, specialmente quanto dice San Giovanni. Il figlio di Dio che viene nel mondo è la luce. Per la giovane montagna questa è la luce che illumina i nostri cuori, il nostro camminare insieme, per godere maggiormente di quella bellezza donata che è la montagna. Le parole che lei ha preparato e condensato, il motivo ispiratore di questo libro. Poi parleremo più nel dettaglio che cosa possiamo trovare in queste pagine patinate. Ora approfitterei della presenza di Roberto De Martín, presidente del Trento Film Festival, che ci ha regalato un po' del suo tempo fra le mille iniziative che sono in corso in questa giornata, come ogni giorno al festival, per chiederle come possiamo collocare questa esperienza, e questa documentazione dentro la storia dell'alpinismo e della montagna italiana. Ma innanzitutto mi sembra che il titolo dica tante cose. Camminare insieme. C'è un vecchio proverbo africano che ho visto anche ricordato in questi giorni qui a Trento. Camminare insieme si va più piano ma più lontano rispetto ad andare da soli più veloce. E questo mi sembra già una sottolineatura di questo bel titolo. E la seconda parte del titolo è ancora più dentro in questi giorni del Trento Film Festival. Giovedì sera noi festeggeremo un grande dell'alpinismo, Armando Aste, una persona anche che ogni tanto scrive sulla rivista Rassegna Alpina della Giovane Montagna. Armando Aste presenterà l'ultimo suo libro che ha avvenature autobiografiche molto bello e si chiama Nella luce dei monti. Tant'è vero che essendo previsto venerdì un'analoga presentazione, quella di Cesare Maestri, noi abbiamo abbinato su iniziativa proprio del nostro vicepresidente Franco De Battaglia, ricordo dei monti nella loro luce in sostanza. Come a dire due grandi hanno ancora da insegnarci. E credo che da questo punto di vista anche l'esperienza della giovane montagna, che io ho vissuto ovviamente in maniera sporadica, in quanto impegnato prima nel Club Alpino Italiano e ora nel Trento Film Festival, sia estremamente emblematica. Voglio solo ricordare una giornata felicissima che ho vissuto con loro a Susa quando si è trattato di fare gli 80 anni della giovane montagna. Perché felicissima? Perché scopersi allora che Roccia Melone era una montagna simbolo per la giovane montagna. E Roccia Melone è tutt'oggi un centro che promana una forte intensità alpinistica con una forte intensità spirituale. Tra l'altro lì è arrivato a diventare vescovo, se non vado errato, il figlio di Vittorio Badini Confalonieri, che è stato un grande vicepresidente del Club Alpino Italiano e che mi raccontava, proprio nello spirito della giovane montagna, lui che è stato sottosegretario dell'interno di Conte Gasperi, ministro del turismo in parecchi governi, dice che i giorni più intensi della mia vita io li ho fatti. Quando uno dei miei nuovi figli, che era laureato in medicina, ha deciso di diventare suora, è riuscita a portare me e mia moglie con la canoa lungo il rio degli Amazzoni a mostrarci i punti di soccorso sanitari che lei aveva organizzato. Dice ho avuto una vita intensissima, nove figli, uno adesso vescovo, però quei 15 giorni per me sono indimenticabili. Questo a dire che quando si riesce a abbinare l'esperienza di esplorazione, l'esperienza di salire i monti con anche un tratto spirituale, evidentemente l'emozione aumenta e probabilmente segna molto di più anche l'esperienza personale. Un secondo momento molto bello che non posso dimenticare, del rapporto con Giovana Montagna, è il fatto che nella mia terra d'origine, sotto la cima 11, Croda Rosso, c'è un bivacco che è uno dei più bei bivacchi delle Dolomiti, il bivacco Mascabroni, fatto proprio dalla Giovane Montagna. E questo è un bivacco che magari è poco noto, ma che magari anche con l'aiuto della vostra radio, della vostra capacità di interessare i media, si può far conoscere di più, così come abbiamo fatto oggi, inaugurando la mostra dei bivacchi sulle Marmarole, un altro gruppo solo mitico, estremamente bello, poco conosciuto, poche ore fa abbiamo inaugurato una mostra, qui proprio alla Biblioteca Civica di Trento, dove sono esposti, pensate, dieci progetti, i primi dieci come graduatoria di merito, di 273 progetti arrivati come risposto a un bando pubblico, per rifare un bivacco, un bivacco che era stato posto in un posto sbagliato, perché quel giorno l'elicottero non poteva salire di più per questioni meteorologici, e adesso dopo 30 anni la sezione di Auronzo, volendo sottolineare i 140 anni della sua vita, ha deciso di farlo al posto previsto in alto, a 2600 metri nella forcella Marmarole, ha fatto un concorso pubblico, qui a Trento al festival sono esposti, io invito tutti ad andare a vedere questi dieci progetti, e ha vinto un progetto proprio che in un certo senso asseconda l'andamento della montagna e permette sì di riposare, ma anche di guardarsi intorno, per cui proprio anche questo, logica giovane montagna. Presidente, c'è un terzo motivo che vorrei suggerirle, si chiama Pier Giorgio Frassati, Esatto. In questo volume, a pagina 292, è riportato il programma della gita alla colma di Monbarone, 10 maggio 1924, in cui Frassati fu direttore di quella gita. Lei è stato fra i promotori del sentiero Frassati del Veneto? Direi di tutta Italia. Ho parlato del Veneto per dire che è stato anche tracciatore. generale, per cui è nato a quel tempo, e siamo lieti che insieme a voi abbiamo benedetto l'ultimo, il ventesimo, proprio alla croce di Lasfons, che è il santuario più alto d'Europa. E per cui anche questo, il legame che c'è stato fra Club Alpino, Giovane e Montagna, in funzione dei sentieri Frassati, è un altro dei legami forti che ha caratterizzato questi anni. Devo anche dire di più, se uno ha la pazienza di andare a farsi sotto il Monte Rosa, non pericoloso, ma bellissimo, il sentiero Frassati della Val d'Aosta, troverà a un certo punto un masso su cui abbiamo lasciato il ricordo, le tre associazioni coinvolte, che è estremamente significativo e bello. E lì cos'era? Era vicino a un luogo dove non si andava, se non a piedi, anche oggi, dove il giovane Frassati andava in vacanza con la famiglia. E questo, in Val di Rem, io invito di farne, direi, meta di una gita che vale proprio la pena. Da ultimo, e qui chiudo, io ho scritto, mi hanno chiesto, proprio per la rivista della Giovane e Montagna, di fare un articolo di chiusura del loro centenario. E credo che, appunto, se uno ha la pazienza, può andare a leggerselo nell'ultimo numero che è uscito. Direi che, in quel libro, io ricordo alcune frasi di Vescovi e Cardinale, ma ricordo soprattutto un prete trentino, Don Erminio Vanzetta, che molti anni fa, inaugurando proprio un'occasione di un altro centenario, il centenario del rifugio Pradidali, Valcanali, Pradidali che viene poi da Prati Gialli, anche questo è bello pensare come i nomi di una volta si intonavano a quello che era il contesto dove nascevano le opere alpine. E Don Erminio Vanzetta fece in quell'occasione un discorso bellissimo. Io ne ho preso una ventina di righe e le ho riportate in questo articolo perché è una cosa preziosa da non dimenticare. Non vi dico il contenuto, vi invito ad andare a scoprirlo perché ne vale proprio la pena. Credo che la Giovane e Montagna e il suo centenario abbiano un significato molto particolare che merita e sono lieto che il Film Festival abbia potuto ospitare questa presentazione. Grazie Presidente. Le sue parole tramite il web arriveranno anche lontano, arriveranno nelle sezioni della Giovane e Montagna che potranno così sentire questa sua autorevole conferma del valore di questa esperienza. Germano Basaldella ha scritto delle pagine davvero molto dense, le ho lette con attenzione le augustate, quasi un estratto di storia dell'alpinismo tra virgolette cattolico anche se sappiamo che non esista ma meglio dei riflessi della presenza degli esponenti ecclesiali sulle montagne a partire dalla fine del Settecento. Ecco, posso chiedere per i presenti, per chi ci ascolta, qualche riflessione e più in generale anche su questo volume e sul suo contributo. Prego Basaldella. Allora, all'origine di questo volume ci sono essenzialmente tre motivi. Il motivo occasionale è appunto il 2014, quindi il centenario dell'associazione, quindi si voleva realizzare un qualcosa che restasse anche negli anni futuri a testimonianza di questo traguardo. Il secondo motivo è che mancava ancora una storia sistematica e generale della Giovane Montagna. C'erano degli interventi parziali, cioè delle storie sezionali oppure degli interventi su singoli aspetti, ma mancava ancora una storia complessiva e generale. Il terzo motivo è realizzare una tessera di un mosaico più ampio che illustrasse un aspetto, anche se piccolo, diciamo della storia dell'alpinismo nel XX secolo. Direi che ci siete riusciti, avendo tra le mani il volume ci siete proprio riusciti. Prego. Sì, allora, si è stato ricordato anche adesso, la Giovane Montagna nasce a Torino nel 1914 e si voleva magari soffermarmi un attimo sugli elementi genetici che stanno all'origine di questa associazione. Beh, prima di tutto l'amicizia, perché la Giovane Montagna è stata fondata da un gruppo di amici e per la precisione 12 amici che provenivano in gran parte appunto dall'associazionismo cattolico e in particolare dal Coraggio Cattolico che era un'associazione che tra le altre cose si occupava anche dell'assistenza morale e materiale degli spazzacamini, quindi veramente eravamo in un'altra epoca. Quindi prima di tutto l'amicizia. Poi una comune appartenenza che era un'appartenenza di ambiente sociale, siamo in un ambiente cittadino, borghese, e poi soprattutto la comune appartenenza ecclesiale. Cioè sono 12 amici che condividevano appunto la fede cristiana vissuta nell'ambito dell'associazionismo. Quindi una delle spinte all'origine dell'associazione era anche la questione della messa festiva. Cioè allora non esisteva quella che oggi si chiama impropriamente messa prefestiva e quindi chi doveva andare in gita in montagna la domenica si poneva a questo problema. E questo era anche un motivo di una certa perplessità da parte dei parroci, no? Dei pastori verso le iniziative organizzate. Però dopo giunge un riconoscimento molto alto, cioè nel 1927, Pio XI, cioè il Papa alpinista, concede l'autorizzazione alla celebrazione della messa all'aperto. Cioè qualora non fosse possibile celebrarla in qualche chiesa o in qualche cappella. Insomma, quindi veramente è come se la giovane montagna avesse ricevuto proprio un riconoscimento molto molto autorevole. L'altro elemento, appunto, anche questo è stato ricordato, è appunto la passione per la montagna che era condivisa da questi dodici amici. Ecco, passione per la montagna in tutti i suoi aspetti. Quindi non solo nella dimensione escursionistica, alpinistica, ma anche nella dimensione, diciamo, scientifica. Nella rivista si leggono molti articoli di carattere scientifico. oppure anche nella sua dimensione antropologica, culturale, si parla spesso del problema dell'economia di montagna, del problema, non so, delle vie di comunicazione, delle risorse economiche, eccetera. Ecco, questa attenzione, diciamo, a tutto campo, su tutto ciò che riguarda la montagna, direi che è una caratteristica che si è sempre conservata fino ad oggi di questa associazione. Per chi ci ascolta, Basadella, lei ha accennato alla rivista Giovane Montagna che ha una storia parallela a quella dell'associazione. In che anno nasce? Ecco, il primo numero, più che rivista, era un bollettino, no? Il primo esce nel dicembre del 14, quindi nello stesso anno in cui viene fondata l'associazione. Credo che sia stato anche riprodotto, mi pare, nel volume, la prima pagina, era un bollettino addirittura scritto a mano, poi riprodotto in alcune coppie, quindi... Però è un primo numero molto interessante perché già lì si trovano... Ecco, allora. Sì, già lì si trovano tutti gli elementi che poi costituiranno proprio la caratteristica dell'associazione. Una bellissima scrittura, fra l'altro. Quindi questo desiderio di comunicare l'esperienza, di formare, di mettere nero su bianco, che è una cosa che probabilmente denota già una progettualità, una volontà di guardare lontano. Sì, sì. La rivista avrà poi storie alterne, nel senso avrà momenti... Come tutte le testate. Addirittura in cui uscirà mensilmente e avrà degli anni, e sono gli anni 30, in cui viene ridotta poco più di un bollettino delle attività per poi riprendere vita, diciamo, nel secondo dopoguerra. Comunque questa attenzione è sempre stata mantenuta. Cioè l'idea di comunicare all'esterno quello che la giovane montagna era, quello che la giovane montagna faceva. Ecco, questo volume tenta di ripercorrere cento anni di questa storia, che sono stati cento anni estremamente ricchi, estremamente densi, quindi anche difficili da condensare, diciamo, in qualche decina di pagine. E' una storia di un'intensissima attività alpinistica ed escursionistica, di cui viene normalmente dato conto nelle pagine della rivista, ma anche nelle pagine dei bollettini sezionali, eccetera. E' una storia di attività anche agonistica. Cioè spesso già negli anni 30 ci sono le prime gare di sci che poi prenderanno la forma del rally alpinistico, ma anche qui è un agonismo vissuto in modo particolare, in cui al primo posto non c'è il risultato da raggiungere, ma c'è, per esempio, l'acquisizione di una mentalità della sicurezza, per cui per esempio nei rally alpinistici c'era una delle prove, era il trasporto della barella conferito, per esempio. quindi è un agonismo non vissuto fine a se stesso. E' una storia anche di molte realizzazioni molto concrete, cioè bivacchi e rifugi. Prima è stato ricordato il Rocciamelone, che è stata una grande impresa, che viene concepita addirittura negli anni della Prima Guerra Mondiale e poi portata a termine nel 1923. appunto viene inaugurato questa cappella rifugio del Rocciamelone. Vuole ricordare dove si trova il Rocciamelone per chi ci ascolta da fuori? Ecco, il Rocciamelone è sin Val di Susa, praticamente ai confini, quasi confini con la Francia. Addirittura c'è una piccola curiosità, nel secondo dopoguerra sembrava quasi che nella risistemazione dei confini il Rocciamelone dovesse finire in Francia, invece è rimasto tra l'altro voi lì avete voluto tornare, è vero? Possiamo sentire su questo un attimo il Presidente Piacentini lo scorso anno per celebrare il centenario. Ecco, perché il Rocciamelone è un po' la vostra montagna a simbolo. Siamo voluto ripercorrere quei segni tangibili che è il Rocciamelone, che abbina l'alpinismo ma anche la nostra religiosità, la nostra fede. I primi che l'hanno costruito l'hanno costruito con questo intendimento vero e proprio. Rocciamelone è una vetta, che è una cima che è isolata, che è a 360 gradi e lì ci trova una piccola cappelletta ricordo e un piccolo bivacco per chi può alla notte dormire. Ecco, è un rifugio vero e proprio. Ma per noi di Giovane Montagna, specialmente per la sezione di Torino, è un elemento molto forte e è un richiamo da sempre. Anche quest'anno la Giovane Montagna assieme al CAI di Torino e al CAI di Francia si trovano in vetta per vivere questo momento così in maniera diversa ma spirituale ma anche umano, soprattutto di amicizia. Ecco, Presidente Nazionale della Giovane Montagna, lei ha introdotto questa parola a sezioni. Vogliamo fare un break per chi non conosce l'associazione? Quante sono a tutt'oggi le sezioni? Come sono distribuite? circa. Quest'oggi le sezioni sono una quindicina di sezioni specialmente poste sull'arco alpino ma troviamo poi verso Modena e verso Roma. Altre sezioni che c'erano c'era anche in Sicilia qualche sezione poi per motivi non c'è più. Altre ne nascono insomma. Altre ne nascono altre ne muoiono poi durante lo posso dire durante il fascismo sono state perse per lo meno una ventina di sezioni ecco e le ultime sezioni che sono sorde è la sezione di Modena e la sezione di Milano ecco complessivamente i soci sono circa circa 3.000 i soci ecco un numero di persone comunque significativo al mondo d'oggi passerei ancora a Basaldella mi scuso se l'ho interrotta però questo accenno di il presidente Piazantini al periodo fascista ci fa capire come la vita dell'associazione non sia stata facile la vita dell'associazione ovviamente si è sempre intrecciata con il contesto storico quando nasce l'associazione si trova subito nasce nel 14 e quindi si trova subito nella prima guerra mondiale che è stato un periodo estremamente difficile ma nel quale l'associazione riesce a sopravvivere non solo a sopravvivere ma durante la prima guerra mondiale nasce anche appunto l'idea della cappella rifugio a Roccia Melone quindi non solo sopravvivenza ma anche una progettazione diciamo di un futuro ecco il periodo appunto del ventennio è stato un periodo per molti aspetti difficile ricordiamo che molte associazioni cattoliche erano state colpite molto duramente l'associazione cattolica gli scout che vengono praticamente sciolti da autorità quindi due sezioni della giovane montagna sono costrette a chiudere durante il ventennio che sono la sezione di Aosta e la sezione di Schio quindi c'è diciamo l'associazione si muove diciamo su un crinale abbastanza pericoloso in cui bisogna cercare di barcamenarsi ecco non ci sarà nessun provvedimento drastico nei confronti dell'associazione però ci sono dei momenti di forte tensione in cui l'allora presidente generale del CAI pensava in qualche modo di dover sciogliere la giovane montagna invece si riesce in qualche modo a sopravvivere riesce a sopravvivere anche la seconda guerra mondiale che è stato un periodo ancora più difficile rispetto alla prima in cui erano difficili anche i collegamenti tra le sezioni insomma molti soci si perdono di vista molte sezioni sono colpite molto duramente per esempio la sezione di Genova avrà dieci soci morti in guerra per esempio eppure appena finita la guerra già l'associazione risorge e progetta già il futuro insomma quindi c'è una ecco questa credo sia una caratteristica che la giovane montagna ha sempre avuto ecco una forte volontà non solo di sopravvivenza ma anche di guardare avanti in qualche modo ecco presidente Piacentini il libro è fatto dal basso si direbbe oggi con il contributo di tutte le sezioni perché questa scelta? ma io ho pensato che l'associazione appartiene a tutti appartiene anche all'ultimo socio e per fare un libro per ricordare i nostri cento anni ho pensato abbiamo pensato tutti insieme che sarebbe bene andare in periferia e poi la periferia che si senta e poi vicino al centro allora abbiamo indicato abbiamo indicato l'insezione che vada nel suo archivio che ricavano i dati e questi dati poi li hanno uniti e poi i più umani li hanno resi più pianificati ecco ma soprattutto questo che il libro non è una voce nostra una voce che cade dall'altro ma è una manifestazione che viene dal basso da coloro che effettivamente alla fine hanno lavorato perché questo pensiero questa associazione vive ancora c'è stata una trasmissione forte abbinata alla montagna ma anche a quella fede che noi abbiamo attinto dei nostri fondatori e oggi è così felice di festeggiare già passati i cento anni e di vedere un futuro ancora fiorire ancora più ampio ecco c'è una sezione tutta particolare che voi chiamate sottosezione perché è trasversale è quella dedicata appunto a Pier Giorgio Frassati e vi possono accedere questo lo diciamo per chi fosse interessato magari anche qui in Trentino o in altre regioni dove non è presente una sezione della giovane montagna appunto tutti e Frassati ha avuto questo dono dall'alpinismo italiano di avere un sentiero in ogni regione e in questo progetto voi giovane montagna avete avuto una parte importante lo riconosce Antonello Sica il promotore di questa iniziativa nel bel capitolo che gli avete lasciato sì è stata veramente un'idea geniale dall'esterno che ci ha richiamati dall'interno perché forse Pier Giorgio Frassati era forse dimenticato dalle nostre sezioni oppure aveva un significato ma non più così vicino come come è tuttora perciò creare la sottosezione Frassati è un richiamo ai sentieri Frassati per coloro che non c'è nessuna sezione nel proprio territorio possono aderire a questa e chissà domani uno di questi possa aprire nel proprio ambito una nuova sezione ecco è stato veramente geniale la parte del CAI che poi noi abbiamo aderito in pieno di mettere al centro questa persona questo uomo questo santo che ci fa la guida anche nei nostri gite ecco una domanda ancora per Basaldella per chi ci ascolta possiamo spiegare che cosa distingue un'iniziativa della Giovane Montagna da altre proposte simili ad esempio messe in piedi da altre realtà associative dal CAI stesso qual è l'imprimatura originale di un'iniziativa ecco questa è una domanda che ci si è posti per esempio la Giovane Montagna ha organizzato anche alcuni convegni non nazionali uno nel 47 quindi appena finita la guerra quindi si trattava di fare un po' il punto della situazione e progettare il futuro un altro non è stato fatto nel 68 quindi in un anno non qualunque e l'ultimo convegno è stato fatto nel 2009 e anche lì ci si è posti il problema di quale fosse in qualche modo lo specifico della Giovane Montagna ecco lo specifico ovviamente non è andare in montagna perché andare in montagna ci vanno molti altri ci sono moltissime altre associazioni oltre al CAI che si dedicano appunto alla montagna ecco ciò che distingue la Giovane Montagna direi tra le varie cose beh prima di tutto l'amicizia ecco credo che come l'amicizia rappresenta l'origine così l'amicizia è un fatto che in qualche modo distingue c'è questa questa fraternità di rapporti che rappresenta l'origine e che ci si sforza pur diciamo nei limiti di tutte le cose umane ci si sforza di mantenere ancora adesso insomma ecco un altro elemento specifico è credo che sia che nella Giovane Montagna non c'è la ricerca esasperata del risultato quindi raggiungere la cima tanto per raggiungerla come è fatto fino a se stesso ecco raggiungere la cima viene in qualche modo dopo il fatto di poterla raggiungere assieme ecco come diceva prima il presidente De Martins forse c'è anche una preferenza per le menti più escursionistiche che non strettamente alpinistiche ad alta gradazione diciamo ecco sì all'origine era stata ripresa un po' questa espressione che era un'espressione di uno dei tanti abatti che tra 800 e 900 avevano in qualche modo fatto la storia dell'alpinismo ecco questo a Bebionà che parlava di un alpinismo all'Ode Rose alpinismo all'acqua di Rose quindi un alpinismo delle vie normali dei 3000 metri dei ghiacciai eccetera cioè questo non vuol dire che nella Giovane Montagna non si faccia anche alpinismo a livelli diciamo ben sostenuti ecco in occasione del centenario per esempio è stata aperta anche una nuova via insomma però ecco non è questo che sta al centro ecco al centro sta appunto questo sentimento di amicizia che possa portare tutti secondo la propria possibilità in montagna e poi c'è l'elemento il fatto in qualche modo quello che dice il secondo articolo dello statuto che la Giovane Montagna è un'associazione di ispirazione cattolica pur non essendo un'associazione confessionale quindi il Giovane Montagna ha questi valori al proprio origine però nello stesso tempo è aperta a chiunque ne condivida in qualche modo le modalità insomma i principi ecco mi sembra di rivedere nelle sue parole lo spirito con cui anche qua in Trentino da qualche anno c'è un'iniziativa simile pure nata dal basso che non si chiama Giovane Montagna ma si chiama Montagna Giovane e che ha avuto per ispiratore un nostro collega collega di Radio Trentino in Blu e di Vita Trentina Michele Nicolini che ci ha lasciato in un incidente in montagna proprio sabato scorso e che in questa occasione vogliamo ricordare con molto affetto ecco uno stile che evidentemente ci accompagna Presidente Piazentini qual è lo stato di salute dell'associazione oggi abbiamo compiuto cento anni su quali su che cose cercate di puntare per riuscire a guardare ancora avanti e riuscire a parlare ai giovani prego sì la sticella di cento anni ormai è andata oltre siamo andati di là e questo ci porta a una speranza perché in tutti questi anni abbiamo cercato di seminare in una società che è in continuamente evoluzione cerchiamo oggi di trampiantare l'antico sul nuovo con linguaggio nuovo con mentalità nuova e qui ci stiamo provando anche abbiamo di poco finito o stanno programmando GM giovani abbiamo messo un programma ogni anno di di far di chiedere se c'è qualche giovane oppure programmare nuove nuove speranze attraverso i giovani giovani che vanno dai 7 ai 15 anni ecco e lì ci facciamo una preparazione sia tecnica ma anche di conoscenza della natura della pratica di tante altre cose ecco e credo che il nostro il nostro messaggio è sempre valido io mi batto sempre per un concetto di spiritualità che viene quella spiritualità che viene dalla fede dal Cristo morto risorto questa è la spiritualità che come giovani montagna noi dobbiamo portare avanti perché le famiglie le famiglie la continuità della famiglia è importante è importante la nostra continuità perché si stende tra il lavoro tra gli affetti e il riposo e dobbiamo a questi tre momenti sostanziali dell'uomo dargli continuità e per dare continuità anche il riposo che in questo senso è liberare delle nostre tensioni per godere della natura sia una continuità del nostro vivere un vivere che poi va trasmesso con la testimonianza che diventa basilare che diventa importante una società plurale che ha bisogno di tutti per raccontare e per farsi raccontare questo è l'augurio e l'impegno che la giovane montagna oggi porta avanti bene mi sembra un'ottima conclusione che è molto in sintonia anche con la realtà che viviamo qui al parco dei mestieri della montagna io ringrazio i nostri ospiti Tita Piasentini e Germano Basaldella con cui abbiamo parlato di questo volume camminare insieme nella luce cento anni della nostra storia grazie ancora e buona permanenza a Trento Film Festival da Vita Trentina a Radio Trentino in Blu grazie a tutti voi che ci avete ascoltato grazie a tutti grazie a tutti